Noi eravamo pronti per rientrare perché così c'era stato detto che ci si dava la possibilità di rientrare e a 24 ore dall'inaugurazione della mostra siamo stati avvisati che l'amministrazione aveva cambiato idea immotivatamente. Siamo veramente esterrefatti di fronte a questa situazione. Artigiani inviperiti e delusi dopo lo stop alla mostra di loro manufatti, inizialmente prevista ai teatini dal 7 all'11 aprile. Nel Merino finiscono il sindaco e la sua giunta che a 24 ore dall'evento, nato per promuovere e valorizzare le produzioni tradizionali e le culture cui si legano i diversi comparti artigianali, avrebbero chiuso la porta dell'ex convento. La dura protesta è andata in scena oggi ai teatini. Una vergogna perché le signore sono anche venute a un mercatino di beneficenza per comprare delle cose da allestire qui alla fiera e all'ultimo minuto viene detto di no. Delusione è anche un grande rammarico per il dietro front dell'amministrazione comunale. Io sono uno che frequente gli artigiani, che mi piace qualcosa e compro. Da questo momento qui non si può entrare più ai teatini, è sbagliato. Mi sta parlando di artigianato d'eccellenza, di un artigianato fatto a mano, come si faceva una volta, quindi diciamo fatto col cuore, fatto con competenza, quell'artigianato che non si trova, quindi che dà anche lustro a quello che è la città. Ma ora la difesa d'ufficio passa all'amministrazione comunale.